Sono lavoratrici e lavoratori ad un milione al mese, senza contratto e però continuativi, altrimenti il più delle volte sono persone discontinue, loro malgrado. Sono oltre un milione e mezzo di lavoratori che da oltre due anni, nei casi più difficili, da ormai quattro anni sono senza rinnovo del contratto. Lavorano in settori importanti, anche strategici, dell'economia del nostro paese, se pensiamo al turismo, ma anche ad attività come il settore delle pulizie, del multiservizi, degli appalti e delle menze. Lavoratori che spesso, per raggiungere retribuzioni da 500-600 euro al mese, devono lavorare anche in una condizione di estrema flessibilità e con poche tutele. Quindi oggi siamo qui per una giusta causa, che è la rivendicazione ad un contratto che li tuteli sotto il profilo dei diritti, ma anche che dia una dignità al lavoro e il riconoscimento delle loro professionalità, con un aumento contrattuale del loro salario dignitoso. E' un'altra cosa, che è un'altra cosa. Un'altra cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.